Ciao a tutti e bentornati! Oggi video in cui vi mostro tutti i prodotti che ho utilizzato per realizzare il look di oggi. Partiamo dalla base e ho utilizzato questo primer della Clarenne, un primer molto siliconico che utilizzo spesso nel mio kit da lavoro, soprattutto in caso di pelle particolarmente grassa o comunque pelle con molti pori dilatati, o lo utilizzo quando ho dei fondotinta che hanno una durata minore e voglio che durino di più. Infatti stamattina ho utilizzato il Lasting Finish di Rimmel nella colorazione 100 Ivory, che mi piace come fondotinta perché è molto leggero, molto naturale, quasi una BB cream, però ha una bassa durata. Solitamente io lo applico senza un primer, però quando voglio che mi duri tutto il giorno mi affido a qualche primer. Come correttore invece, dato che stamattina erano abbastanza evidenti, ho utilizzato il Pro Concealer LA Girl nella colorazione, non so che colorazione sia comunque quella tanto aranciata, ma davvero una punta, una punta non sono andata proprio a coprire tutta la zona, ne ho applicato proprio una punta nella parte più scura dell'occhiaia e poi sono andata a schiarirlo con il Cancelletà di Maybelline nella colorazione 00 Ivory. E devo dire che utilizzandoli insieme, dato che questo è molto chiaro e questo è proprio arancio puro, sono riuscita a trovare la toralità giusta per andare a contrastare abbastanza bene l'occhiaio e sono soddisfatta. Sul viso ho fissato con la cipria della Catrice, la Glow Illusion, una cipria molto bella, traslucida, luminosa, non è una cipria opacizzante. Se avete una pelle particolarmente grasse e volete un effetto super opaco, non è la cipria adatta a voi. È una cipria sottile che io consiglierei a pelli un po' più mature e a pelli normali, secche o comunque con le pelli spente che hanno bisogno di un po' più di luce e di luminosità. Sul contorno occhi invece ho utilizzato una cipria che ho vinto in un pacco di Giulia Cova che è la Banana Setting Powder. Allora sapete che è questa qui, credo che la marca sia proprio questa. Sapete che io adoro la cipria della Becca. Quella per il contorno occhi ed è l'unica cipria con cui mi trovo bene. Devo dire che è la prima volta che l'ho utilizzata stamattina, adesso vediamo come va durante la giornata, però mi son trovata bene all'applicazione perché non mi ha fatto strato. Era super sottile e leggermente giallina, quindi pensavo potesse risultare un po' troppo scura sull'occhiaia, invece poi si è adattata perfettamente. Quindi per ora mi piace, vediamo un po' come si comporta. Sul viso, prima di andare a fissare con la cipria, sono andata con il blush liquido di Nars nella colorazione Orgasm. Un blush stupendo, è un blush molto molto liquido, ha un effetto davvero molto bello sulla pelle, luminoso naturale. E l'ho utilizzato spesso anche sulle spose, proprio per questo suo effetto fresco e naturale, luminoso, ma a lunga durata. Successivamente ho utilizzato la palette di Astra, la Peach Romance, questa qui. A me piace, è molto carina, sono delle polveri carine, facilmente sfumabili, non durano tutto il giorno. Proprio per queste ragioni oggi ho utilizzato un blush in crema come base, in modo da aumentarne appunto la durata. In linea generale è una palette che a me piace. Siamo alle sopracciglia e stamattina ho ripreso i miei brow pot della NABLA nella colorazione Venus e Mars. Adesso che ho schiarito le sopracciglia risultavano leggermente scuri, quindi sono andata con una mano super leggera. E per fissare, una cosa che sto facendo spesso in quest'ultimo periodo, ho utilizzato la Too Faced Natural Matte e sono andata con questi due colori qui. Questa era la parte iniziale e questa era la parte finale che è quello più scuro. Sono quasi per bucare questi ombretti, sono soddisfatta perché mettendola qui nella postazione mi ricordo appunto che ce l'ho e la sfrutto per le sopracciglia. Passiamo agli occhi, che sono un po' i protagonisti di questo look e ho iniziato a creare la mia base cremosa con la NYX Liquid Suede nella colorazione numero 23. Questa è opaca, che è un colore abbastanza scuro, sembra quasi un melanzana molto scuro. E mi sono concentrata soprattutto nella via esterna e nella rima ciliare inferiore. Su tutta la palpebra mobile invece ho utilizzato il Metashock di Essence nella colorazione 04 Supernova, che è questo colore qui, e l'ho applicato appunto su tutta la palpebra mobile. Mentre sull'angolo interno sono andata con l'eyeliner sempre della Essence, quello bianco, che risulta un po' secchino da utilizzare appunto come base ombretto, però se lo sfungo bene e ne applico poco, mi dà pochi problemi. Ecco, la rima interna è inferiore, sono andata invece con la matita della Make Up For Ever Artist Color Pencil nella colorazione 902 Violet. Un colore molto carino devo dire, volevo provarla ad utilizzare anche come base in crema per andarci poi ad applicarla al di sopra altri ombretti, magari più avanti proverò a fare un look di questo genere. E poi, sempre nell'angolo interno, ma nella parte iniziale diciamo, sono andata con la Long Lasting della Essence nella colorazione 30 Gold Bling, che è un oro praticamente, sono molto carine queste matite, le avrei preferite un po' più scriventi sugli occhi. Invece ho utilizzato di nuovo la Mercury Retro Gate di Huda Beauty, davvero bellissima. Sono andata a creare la mia prima sfumatura con Utopia e Crush, questi due opachi qui. Poi ho utilizzato leggermente al di sotto, quindi proprio nella piega Off Balance e questi colori poi li ho portati anche sulla rima ciliare inferiore. Nell'angolo esterno ho utilizzato Vortex. Invece sulla palpebra mobile, dove avevo sfumato l'ombretto della Essence, ho picchiettato con le dita Nebula, che secondo me era l'ombretto che si adattava di più, l'ombretto di Essence. Davvero stupendo, è un granuloso, però poi quasi glitterato, però poi l'effetto sugli occhi è davvero molto bello. Invece nell'angolo esterno ho applicato Super Moon, anche questo molto bello, molto particolare. È una palette che mi piace, è una palette particolare, anche colori comunque non sono colori già visti. Alcuni sì, magari alcuni rosellini, alcuni oro. Gli opachi chiari e gli opachi da transizione sono davvero molto buoni, non mi danno alcun problema. Quelli che mi hanno dato un po' più di problemi sono i due opachi, appunto più scuri, ma ho notato che se vado a creare prima una base in crema, come in questo caso ho fatto con questi prodotti qui che vi ho mostrato prima, e vado poi ad applicare il prodotto con un pennello piccolo e non troppo ampio, come questo qui di Pixi, vado proprio a tamponare il colore nell'angolo esterno, quindi dove lo voglio posizionare io, facendo così diciamo che il colore è risultato più omogeneo, sono riuscita a sfumarlo molto meglio rispetto a quando magari lo applico con un pennello un po' più ampio, sempre a penna però meno compatto, e avendo al di sotto la base in crema, l'ombretto ha aderito molto bene, e quindi non ci sono andati a creare buchi e il colore risultava ben saturo, da come potete vedere. Quindi in generale è una palette che mi sta piacendo molto, devo riprovare a applicare questi due ombretti più scuri, anche se oggi ho utilizzato solo questo, e capire se anche al di sotto solo con un primer l'ombretto aderisce utilizzando appunto un pennello ben compatto che vada a pressare bene il prodotto. Vediamo un attimino. Comunque è una palette che mi sta piacendo molto e che sto usando parecchio direi. Come mascara invece ho utilizzato il primer della Essence, il solito, con cui mi trovo molto bene perché mi fa durare innanzitutto in mascara molto più a lungo e mi dà un effetto molto più pieno, molto più voluminoso, e le ciglia sembrano anche molto più spesse, e poi al di sopra sono andata con il mio amato Pupa Vamp, appunto di Pupa, che è un mascara che ho ricomprato tantissimo negli anni. Sulle labbra invece ho applicato una sorta di gloss, che è un prodotto della Deborah Milano, che io non vedo più, ne avevo trovati per caso anni fa, si chiamano Detox Complex Red Fruit Oil, che è questo qui, non so se riuscite a vedere, sono dei gloss colorati con SPF, anche se l'SPF ormai sarà andato via. Come vedete ho utilizzato molto e mi idratano un sacco le labbra e le colorano leggermente e sono davvero molto comodi anche da portarsi in giro, ecco, e da riapplicare. Questo è il look di oggi, io spero vi sia piaciuto e di avervi tenuto un po' di compagnia e niente, se vi faccio, vediamo alla prossima, ciao!